Taglia le partecipate, a rischio con l'occupazione anche gli investimenti. La preoccupazione nella marca da parte della Cigelle Trivisa è che i tagli avvengano in modo indiscriminato anche nei confronti delle aziende in positivo e che forniscono servizi reali e concreti al pubblico. Così, dopo quanto deciso dal Governo venerdì scorso, con l'approvazione del DEF, il famoso documento di economia e finanza del Governo. La domanda è, stanno creando valore pubblico, valore sociale per i cittadini o sono semplicemente delle scatole vuote che nella migliore dell'ipotesi non bruciano risorse pubbliche? Questa è la domanda. In provincia sono più di 50 i consorsi, le fondazioni e le società partecipate, con Treviso, l'ente pubblico con più partecipazioni, con Treviso Sosta, azienda speciale Promo Treviso, farmacia trevigiana, Miani Park, Treviso Sinergie, solo per citarne alcune. Per il segretario della Camera del Lavoro andrebbero smantellate tutte quelle in rosso. Il suo appello per proteggere quelle virtuose, due per tutte, a Scopiave e Contarina con oltre 500 dipendenti e chiudere o fondere le cosiddette scatole vuote su cui si riversano i soldi pubblici. Nell'idea di razionalizzare e eventualmente anche in qualche modo chiudere le società che non hanno un senso. Questo è il ragionamento che bisogna assolutamente aprire.